Hola a todos! Benvenuti in un nuovo video! Oggi vi propongo una ricettina con la pasta sfoglia davvero buonissima e sfiziosa ma molto molto semplice da preparare e andremo a preparare le girelle sfiziose con la sfoglia e lo speck ma potete utilizzare anche il prosciutto cotto oppure la pancetta gli ingredienti sono solo due, la sfoglia e lo speck andiamo a ricoprire interamente la sfoglia con le fettine di speck e poi andiamo a rigirarla dal lato più lungo aiutandoci con la carta da forno una volta arrotolata tutta la sfoglia e creata la nostra girella l'andiamo poi a bloccare aiutandoci con la carta da forno e formiamo un salsicciotto lo riponiamo poi in frigo per tre quarti d'ora o un'oretta dopodiché lo estraiamo dal frigo e andiamo a tagliare le nostre fettine aiutandoci con un coltello bello affilato facciamo delle fettine spesse 4 mm non importa se perdono la forma perché tanto la riacquisteranno dopo una volta cotti quindi tagliamo tutta la sfoglia a fettine e le andiamo ad arraggiare in una placca da forno o una teglia rivestita di carta da forno ecco qua e andiamo poi ad infornare in forno prediscaldato a 180 gradi per 16-18 minuti dipende un pochino del tipo di forno una volta cotti ecco qua il risultato sono pronte da pappare sono davvero buonissime e tanto tanto semplici spero che questa ricettina vi sia piaciuta fatemi sapere cosa ne pensate con un commentino ci tengo spolliciate ed iscrivetevi per non perdere i miei prossimi video se la rifate e vi va di taggarmi su instagram ne sarei molto contenta vi ringrazio per aver visto il video vi mando tanti tanti super baciutissimi e se vi va ci vediamo al prossimo ciao ciao